A spasso col drone Portiamo il drone a circa due metri dal suolo e facciamolo procedere in avanti seguendolo a piedi. Mentre procediamo con il veicolo davanti a noi, facciamolo oscillare da destra a sinistra e viceversa, sempre tenendo il muso rivolto in avanti. Questo ci aiuterà sia a non perdere terreno nei suoi confronti, sia a prendere confidenza con le virate. La camminata è molto utile per acquisire il senso di orientamento in relazione al drone. Dopo aver percorso i primi tratti in linea retta, proviamo a cambiare la nostra direzione di marcia, sia a sinistra che a destra. Ripetiamo l'esercizio in diverse direzioni.